Curo uno spazio che si chiama lo stato delle cose, è un tentativo diciamo di affrontare i grandi temi del momento, l'ambiente e le disegnalanze economiche. Cinema nel cinema non l'avevo mai provata, sono molto curioso di vedere quali saranno gli sviluppi creativi. So già che saranno dei corti molto innovativi. Mi pare che ogni anno il livello cresca. È un'occasione anche per i più giovani per avvicinarci al cinema.